dopo le foto che vedono flavio briatore paparazzato con una ventenne suo nuovo flirt elisabetta gregoraci sempre attivissima su instagram ha trovato anche il tempo per commentare la cronaca rosa che ha riguardato il suo ex e per lui ha avuto parole tutt'altro che carine non è il problema avere un altro rapporto ma l'età questo si destabilizza ha scritto un utente sotto un post instagram di elisabetta che ha tuonato più che destabilizzare farà brividire parole chiare nette che non hanno bisogno di interpretazioni ma non è finita qui a una fan che ha detto che briatore stavolta ha scombustolato gli equilibri di età tra uomo e donna prestando il fianco a battute e battutacce gregoraci ha risposto me lo auguro che se ne renda conto ma non ne sono sicura c'è poi stato un terzo intervento da parte della conduttrice più stringato rispetto agli altri ma probabilmente il più significativo hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni il pensiero di una fan alla quale elisabetta ha risposto con un lapidario tanto che cosa intenderà la showgirl con quel tanto le congetture si sprecano c'è comunque da dire che anche tra la gregoraci e briatore ci sono ben 30 anni di differenza e sono sempre molti grazie a tutti grazie a tutti